Siamo pronti, quando si comincia? Si comincia stasera con un grande concerto in Piazza Ponte Rosso e Comacosa, un concerto gratuito quindi invito tutti a venire a scoprire questo duo che sta facendo veramente un percorso bellissimo e poi domani invece apriamo la parte della Piazza Unità e della Scala Reale con i nostri Gold Sponsor, in particolare ci sarà un taglio del nastro per il Presidente Federica e il Presidente Gialluz alle 6 qui all'Hospitality di Promo FWG Annalisa, quali sono le novità principali dell'edizione di quest'anno per quanto riguarda l'organizzazione? Tante sono le novità nel calendario, nell'esposizione a terra in Piazza Unità d'Italia verrà esposta la macchina, la Lexus, che andrà in palio nella lotteria quindi grande fortuna per uno degli iscritti alla Coppa d'Ottuno, l'estrazione la prossima settimana Assolutamente, è un calendario ricchissimo quest'anno con più di 250 eventi in città distribuiti un po' ovunque, tante mostre, ci sarà tanta cultura anche di momenti molto interessanti tra cui l'iniziativa di Vento Fresco con Paolo Rizzi e la mostra che sarà qui in Piazza Unità a partire da martedì prossimo dove racconterà la sua grande avventura, ma non possiamo svelare nulla perché ci sarà un'anteprima al Revoltella domenica sera alle ore 19 A che punto siamo qui con i preparativi? È un po' come la cena della vigilia di Natale, no? Fermano i preparativi soprattutto appunto per l'apertura di domani di Piazza Unità d'Italia quindi insomma stiamo terminando di allestire le strutture, gli allestimenti interni insomma speriamo di farcela e di essere pronti per domani mattina